5.000 concorrenti per la conquista della Gran Coppa dei Birilli nella Germania federale. Non c'è da scherzare. Si tratta di una competizione di massa, commessa in opera di una speciale innovazione. Una macchina, manco a dirlo, made in Germany, che rimette a posto i nove birilli e ritorna le voce ai concorrenti. Niente perdite di tempo e niente crisi nervose. C'è sempre un birillo che non vuole cadere. La macchina raddrizza i caduti. Se vi interessa la Gran Coppa l'ha vinta Alvin Haase. 1.500 birilli in 180 palle. È sempre un record.